Prima di tuffarsi ufficialmente nella nuova stagione, la Dinamo ha fatto il pieno di entusiasmo tra i suoi tifosi. Lunedì sera, nella conice inedita di Piazza Fiume, a Sassari, la rinnovatissima squadra bianco-blu, si è presentata alla città. Presenti almeno 400 tifosi irriducibili che, nelle due ore circa di evento, hanno visto sfilare al microfono i protagonisti di un'annata che, ci si augura, possa riscattare l'andamento deludente dell'ultimo torneo, che ha visto il banco fuori dai play-off scudetto. Bisogna voler cambiare. Ovviamente noi iniziamo questa stagione con tante cose che sono cambiate all'interno della nostra società. Abbiamo passato una stagione che a livello sportivo sicuramente non è stata la nostra miglior stagione, ma che a livello societario ci ha dato grande soddisfazione. Quest'anno iniziamo con tanti nuovi giocatori, un ambiente che ha la faccia giusta, che ha dimostrato sia nel ritiro che durante queste prime tre partite di essere pronta a competere e a rendere orgogliosi i nostri tifosi, che per noi è la vittoria più importante. E sicuramente questa nuova faccia della nuova Dynamo, scusate il gioco di parole, a noi piace tanto e siamo sicuri che regalerà grandi soddisfazioni alla piazza, alla città, alla Sardegna e a tutti i nostri tifosi del mondo. Nel weekend appena trascorso la Dynamo aveva invece testato la sua condizione al Palapirastu, nell'ormai tradizionale appuntamento prestagionale del torneo City of Cagliari. Di fronte ai 3.000 calorosissimi tifosi di via Rockefeller, Beggius e i compagni hanno saputo confermare i segnali incoraggianti emersi già nel primo test di Nuoro contro Cremona, conquistando, anche un po' a sorpresa, il primo posto davanti ai vice campioni d'Italia della Virtus Bologna, battuti in finale per 69-68 grazie al canestro decisivo di Cappelletti a 15 secondi dal termine. In semifinale, invece, il banco aveva messo alle corde i greci del Paux Salonico, altra formazione che tra due settimane sarà impegnata nel round preliminare di Basketball Champions League. E tra sabato e domenica anche la formazione femminile della Dinamo ha fatto capolino nel capoluogo per il torneo amichevole disputato a Saduchessa. Penalizzata dall'assenza di Beggius, fermata da un problema muscolare e con la nuova americana Sparkle Taylor a mezzo servizio per i postumi del jet lag, le women hanno concluso all'ultimo posto, collezionando due sconfitte al cospetto delle campionesse di Spagna di Valencia e di Brixia nella finalina di consolazione. Siamo un po' indietro, però queste due partite ci servono tanto anche perché saranno insieme a quella della Virtus, le uniche tre partite prima del preliminare, quindi questa è una fase molto importante per noi.